Un saluto a tutti gli amici di Oratut e un pensiero che voglio condividere con voi ormai vicini a queste feste di Natale. Un pensiero che ci aiuta ad unire i nostri cammini, a fare in modo che insieme proviamo a incontrare questo Signore Gesù che ha deciso di mettere la sua tenda in mezzo a noi, di abitare con noi. Un pensiero che dà valore a quello che anche voi fate per me attraverso la vostra generosità. Cosa vorrei augurarvi? Mi piace partire dal Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. L'Evangelista diceva che la nascita di Gesù avvenne così e racconta la vita e le scelte di Giuseppe e di Maria. Ecco, io penso che la nascita di Gesù oggi avvenga ancora nello stesso mondo, ovvero quando si trovano persone, uomini, donne, che senza egoismo decidono di mettere a disposizione la loro vita di qualcosa di più grande. Credo che abbiamo bisogno di questo tipo di generosità per tornare a vivere, di mettere da parte l'egoismo che ci fa pensare che quello che abbiamo è solo per noi perché ce lo siamo guadagnato, ce lo siamo costruito. Oggi il mondo ha bisogno di fingere questo egoismo e di ritrovare una generosità che dà felicità. Quanto più noi diamo, condividiamo, quanto più permettiamo a Dio di entrare dentro questa storia. Ci è entrato la prima volta attraverso la generosità di Giuseppe e di Maria e continuo ad entrare in questa storia attraverso anche la nostra generosità, la vostra, la mia, la tua, quella di ciascuno di voi. Allora vorrei augurarvi con grande semplicità che siate persone, uomini, donne, amici che amano la propria vita, che la rispettano e che sono pronti a condividerla. Grazie perché insieme anche a voi riesco a fare tante cose, riesco ad amare tante persone. Vi auguro davvero di non essere egoisti e di essere come Giuseppe e Maria che permettono al Signore di entrare nella storia. Auguri di cuore a tutti voi perché il Signore entri in quest'alba, in questa nostra storia, anche attraverso di noi, ciascuno di noi, attraverso la bellezza della propria vita. Buon Natale a tutti e ci vediamo il resto. Ciao! Ciao!